In questa lezione, dopo che vi avrò mostrato come si dovrebbe poter aggiungere come strumento di disegno, di dettaglio, paint detail del terreno, una mesh veramente 3D, ma un problemino ce l'ho avuto e non l'ho risolto, l'oggetto, l'argomento principale poi del resto del video sarà il suono. Certo, a un livello elementare, ma già di soddisfazione, certamente. Buona visione. Noi con Unity stiamo utilizzando strumenti cosiddetti high level, ad alto livello, e ci stiamo occupando di terreni, ma c'è qualcuno su YouTube che sta procedendo dall'altro capo del mondo, cioè parte da strumenti a basso livello come il C, C++ e un engine di grafica per arrivare a capire come vengono generati questi terreni. E siccome so che parecchi di voi sono anche appassionati di programmazione, vi voglio segnalare un canale YouTube di un ragazzo che ci sta proprio provando da parecchio tempo, si vede che se l'è sudata tutta quella conoscenza che può mostrare adesso nei suoi video. Ma che dico tentando? C'è riuscito, ha realizzato alcuni godibilissimi esempi, di cui lui gentilmente mette anche a disposizione il sorgente, e nel video che adesso vi mostrerò, vi darò solo il riferimento, naturalmente, vi spiega proprio le basi di quel complesso algoritmo. È affascinante, probabilmente la maggior parte di noi avrà difficoltà a seguire tutto fino alla fine, ma è bello vedere che cosa c'è dietro un ambiente come Unity, il suo motore interno. Il video è questo, qua l'autore, il canale, SimGameDev. Il video dura una cinquantina di minuti, date tempo a quei 3-4 per carburare, e poi vedrete che vi acchiapperà il suo modo di spiegare. Mi piace, personalmente mi piace, anche il timbro della voce, la sua tranquillità, l'apparente semplicità con cui tratta un argomento complesso. Devi scendere ancora un pochino, se vuole aiutarci con dei tutorial. Mi ha promesso che sta pensando a un tutorial da zero sull'SDL, aspetto proprio con interesse. Ci sono già diversi altri video, però molti sono inglese, e questo è solo l'odevole. Un altro che mi è piaciuto, sono andato proprio a scavare indietro nel tempo, è questo. sugli aspetti speciali di base nei videogames, perché sono comunque cose non impossibili da raggiungere, non facili, non fraintendetemi, però una grossa soddisfazione. Ok, se volete supportatelo, secondo me vale la pena, convinciamolo veramente ad iniziare una bella playlist su SDL da zero. Ma adesso torniamo a noi, ai nostri terreni, e non ce l'ho fatta, quel particolare, ripeto, non bloccante, non sono poi riuscito a farlo funzionare. Quindi, help, vi chiedo aiuto, soprattutto qualcuno che, secondo me ci vuole più come un programmatore, un grafico abituato a ragionare in termini di mesh, cioè di scheletri poligonali degli oggetti, texture, come queste vengono accartocciate intorno alle mesh, perché deve essere legato a qualcosa, leggendo meno i post di quel tipo lì. Allora, terreno. Sono ritornato nella sezione Paint Details, dettagli, e vi ho già mostrato come aggiungere una texture. Il problema è quando andiamo ad aggiungere una mesh, cioè un oggetto veramente 3D, quindi molto dettaglio e con possibilità che la semplice texture non offre. Scegliamone una. Io, avendo caricato anche tutti gli asset del solito Bootcamp, ho questo barile. Poi, come modalità di rendering, non lascio quella tipica dell'erba, che non ha senso, ma è questa, quella da scegliere, Vertex Elite. Aggiungiamo. Adesso, in teoria, dovrei poter andare a dipingere, ad aggiungere, come ho fatto con l'erba, una discreta quantità e con semplicità, un po' di barilotti, un po' di barili qua e là, cliccando, ma non si vede proprio nulla. Ho letto parecchi post, diversi utenti sono incappati in questi problemi, o molto simili. Tra i suggerimenti, magari a voi potrebbe funzionare, è quello di andare a regolare questo valore nella sezione di configurazione, ripeto. Detail Distance. È la distanza oltre la quale il motore giudica che è indifferente nascondere certi particolari e quindi non li fa vedere. Ma io ho provato anche ad esagerare, a mettere a paletta, ma quando poi torno qui, ok. Ho provato anche ad avvicinarmi tantissimo perché c'è un problema di scala, per cui il barile che nel programma di disegno esterno a Unity ha delle dimensioni normali, per qualche motivo strano, arrivati poi qui a piazzarlo, potrebbe essere microscopico. Per cui, forse sto veramente aggiungendo con i click quella dei barili, ma non li vedo perché sono microscopici. Da notare, e quantomeno ho imparato altre cose studiando questo problema, che se andiamo a piazzare direttamente dagli asset, andiamo a cercare il nostro barrel B. Da qui, col trascinamento, il barile c'è. È un po' affondato nel terreno, ma è un attimo, basta andare ad agire sulla Y. Sapete che il nostro livello è a 70, diciamo 71, ecco, vedi che già ci siamo. Ok, ha detto, va, forse è un problema di scala, perché se andate a fare click appunto sull'asset, no, questo. Trovate appunto nei parametri la scala, e se andate a ingrandire, non so, il 4, in tempo reale i barili vengono scalati, diventano più grandi, potrebbero diventare anche enormi. Ecco, ci sono situazioni in cui la scala di default, così come fissata dal programma esterno di disegno, non collima con quella poi utilizzata da Unity. E allora potrebbe capitare di trascinare l'oggetto, la mesh, sul terreno, e che questa sia enorme. Ecco, in questo caso, ricordatevi, si va ad agire su questo, uno dei modi, e agire appunto su questo valore di scala. Ma, niente, non è servito, ho provato ad aggiungere un fattore di scala per avere dei bariloni enormi, ma niente, io clicco e non vedo un bel niente. Ecco, intanto mi piacerebbe sapere se anche voi avete questo problema, e nel caso se l'avete risolto, ancora meglio. Cerchiamo allora almeno di rifarci aggiungendo un po' di suono. Dobbiamo aggiungere almeno una sorgente sonora. E poi, ma questo dovremmo già averne uno automaticamente collegato alla camera, un listener, un ascoltatore. L'ascoltatore non è un personaggio, è la rappresentazione astratta di quello che serve nel gioco per ascoltare un suono. È un oggetto che si affianca, ad esempio, al personaggio principale, quello che noi pilotiamo. Ma, come dicevo, di suo già la telecamera ne ha uno. Ma non potete mettere un listener in corrispondenza della telecamera ed un altro con il giocatore. Ogni scena può avere al massimo un solo listener. Quindi, grazie a quello, facendo poi partire il game in modalità test, dovremmo già sentire appunto gli effetti sonori. Selezionate il terreno, andate a comandare Component Audio Audio Source Si è aggiunta qua sulla destra. Al momento nessun clip audio è collegato al componente. Andiamolo a scegliere con un clic qui. Io ne ho un po', sempre del Bootcamp. Dovrei avere qualche cosa anche simile al vento, forse. Windwood Forest Wind Doppio clic, l'ho aggiunto Ma sentiamolo, facendo partire il game Sembra più rumore di una cascata Andrebbe forse un pochino pilotato E modulato Vabbè, ci accontentiamo Ho provato a giocare sul pitch Ed è già più convincente Ho anche abbassato un pochetto il volume Ne ho aggiunto un secondo E certo, prima o poi dovremo imparare come far partire un suono quando capita un evento specifico nel game Ma per ora va bene così Bene, questo è solo un assaggino Nel prossimo video andremo un pochetto più in profondità Sui vari parametri e la configurazione degli asset audio Alla prossima